aiaiai ciao a tutti amici del tubo è l'orario di mangiare siamo qui dice cosa si deve mangiare un saccio che passa a calare magliette che sono le magliette magliette ci diciamo magliette spaghetto maccaroncino bucatino vediamo che cosa passa oggi la vita oggi un piatto molto difficile che ci messe veramente tanto a pensarci soprattutto per farlo ed è anche un piatto veramente molto buono passa con il burro ci pare che hai un tempo di perdere quello l'unico che ha avuto l'orario che ancora su calancione l'orario consente va mio marito pino ora pretende ora pretende senza dare soldi pretende sapete quant'è che non lavora cinque giorni che non ripara le lavabincherie cinque giorni ok anzi se c'è qualcuno che ha la lavatrice guasti accattate mille non chiamate perché perché è un mogione ora 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 ci penso io visto che soldi non me ne dai il lavoro te lo blocco io il lavoro ce lo blocco io quindi abbiamo queste formettine di burro ora ci metto un tuo piatto il cacio che dice che lo mangio io burro e baisa che ti fa male il cacio il formaggio ci fa male ok è bello che dice voglio il grana voglio il grana scende e ovaccate e lo mangio pure io giusto è ancora non hanno capito non ha capito mio marito inutile che mi fa le richieste perché io a lui non ci richiedo niente vero che non ti richiedo niente prima richiedevo non ho mai ottenuto niente e non ci richiedo mai niente vedremo chi passa a cercare l'aria anzi giro pure qua che così lo vedete pure voi ce l'hai o carinca ce l'hai o carinca vediamo allora chissà è buona pipisette puoi vedere chissà buona pipisette in bianco eh vedi quando dico le lumatine vedi chissà è buona per i piselli noo chissà è buona pipisette puoi passare mai senti che passa che vuoi spaghettato mettiamo qua chissà si chiama ruminsaglia chissà si miscata la pasta mescata perché è piccata e ma che basta a cercare ma con basta a cercare vediamo questa chissà su i maglietti i maglietti piccate questa festa solo per mia vediamo se passa a cercare pennetta puro piccate ma c'è solo per mia no io veramente un sacco chissà sei nata ma a restare uno perché ma la faccio io e come la faccio hai stammascata ah no maglietta maglietta c'è ha messo cucchia chissà ma non caccia fischi allora oggi magliette romane votanne le faccio a venerea sono baccarati domani al lavoro subito ma che è buio già apposso vediamo queste magliette ha ha che secca un mese qua se ci bastano questa qua vediamo un po' bim 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 aspetta ci sono moschitti rincia perché una una tutto deve chi è sa cosa è sa cosa mi vuole no no ho cos'ora perché capita che ci trovo le farfallina chi se la metto qua che è così da lato un minuto che la veniamo qua no va bene va bene così ora prendo il sale raccossiccio mietto mi sententa il sale ci pare che io faccio le cose piccanti come le fanno le sue sorelle capito io due è convinto sempre di chiscio mettiamo qua per mangiare questa banana che è san fraricerno san fraricerno non lo voglio io io sono con i miei i platana come si chiamano i di rossi vedi il proverbio dice giusto che pegnata tagliata non buggie mai pegnata tagliata non buggie mai ecco non toccare il caso qua c'è un tempo il burro figlio vediamo aspetta che cosa c'è aspetta un burro burro allora c'è c'è perfetto burro le formettine vediamo quando scarano a una scala romana ma mangio io e chissà è scaduta c'è un miglio va bene ok ce l'abbiamo fatta per oggi romana la ciaverga e si viene buggie buggie e così oggi vedete solo con una calade balsa sei nata ma li invitavo vi auguro una buona giornata a tutti voi amici del tubo e a presto dalla signora Titina e grazie sempre che seguite questi video ironici ciao